Verranno eseguiti lavori di ampliamento e ristrutturazione alla Chiesa dello Spirito Santo di Lanciano, con la realizzazione anche di una cappella feriale. I lavori, che si concluderanno fra un anno e mezzo, prevedono un costo di circa 800.000 euro, di cui il 70% derivanti dall'8 per mille. I lavori sono stati presentati in una conferenza stampa con l'arcivescovo Emidio Cipollone, Don Nicola Giampietro, parroco della Chiesa, i progettisti e la ditta che effettuerà i lavori stessi. Monsignore Emidio Cipollone, oggi l'inizio dei lavori per la Chiesa dello Spirito Santo e la sua benedizione non può mancare perché è un momento di gioia. È un momento di gioia per la comunità ecclesiale, parrocchiale, per l'intera di oggi, si vista anche l'importanza numerica di questa parrocchia che supera i 9.000 abitanti ed è importante anche dal punto di vista sociale perché in questo quartiere sicuramente il complesso parrocchiale di Spirito Santo è l'anima. Intorno ad esso si possono riunire i bambini, i ragazzi, i giovani, gli adulti, le famiglie e quindi restaurare questa chiesa e mettere la prima pietra per la cappella feriale che verrà costruita ex novo, restaurare anche i locali parrocchiali sicuramente è un evento che procura gioia a tutti. Architetto Carmine Coppa, già nel plastico si capisce che cosa verrà realizzato, quindi posa della prima pietra e si parte. Ci sarà l'ampliamento della casa canonica, alcune situazioni di restauro nella zona dell'aula grande, quindi maggiori spazi, aule per le attività. E' l'ultimo piano la casa per i parroci, per il parroco e i suoi adepti. Affiancata a questa opera ci sarà fatta proprio la cappella feriale che potrà accogliere 50 fedeli e quindi è questa soprattutto l'immagine più forte dell'insieme che, ripeto, propone una architettura organica non razionale.